Intervista migliore in campo Armando capitano dei Bruxion Team e Parmigiano Nooo Parmigiano 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 Vado a parlare Ragazzi facciamo i seri Dobbiamo dire che più che il migliore in campo siamo stati migliori in campo Brava Giocata Giocata, sudata e vinta Bravo, bravo Con Ezio a Porto Con Ezio a Porto Con Ezio Ignazio Armando, Armando, Armando Ciò vuole anche Armando No, la scuola è stata bravissima Una persona che Armando voleva mostrare qui ma non c'era Non facciamo no No, comunque la partita è stata difficile Però forse per la prima volta abbiamo giocato Abbiamo passato Se continuiamo così Il torneo lo diciamo noi Complimenti Applausi Applausi Bravo Evolution Team Ciao Ciao